Sono Gianluca Santilli, presidente di Osservatorio Bike Economy. Ho ascoltato il sindaco Sala raccontarci, parlarci e dettagliarci quello che Milano sta provando a fare per la ripartenza e ho esaminato anche il documento Milano 2020. Devo dire che Milano al solito guida, guida un po' l'Italia, guida le varie amministrazioni perché il piano è molto ben fatto, molto ben dettagliato, ma soprattutto da un punto di vista metodologico è da condividere perché è un piano che prevede che vadano lì a confluire anche le idee, le idee migliori dei cittadini e quindi è un piano anche di condivisione. Per quanto riguarda la mobilità, è chiaro che il Covid-19 comporterà una sorta di terrore da parte di tutti per motivi di contagio di utilizzare i mezzi pubblici e anche la drastica riduzione delle persone che potranno montare sui mezzi pubblici a cominciare dalle metropolitane e dagli autobus, rischia di essere addirittura inferiore a quella che si immagina di poter far affluire su metropolitane e su autobus. Ciò comporterà un rischio, un rischio altissimo dell'utilizzo dell'auto privata che è chiaro che verrà vista come un guscio protettivo. L'unica alternativa è quella di utilizzare da un lato una mobilità alternativa smart, smart sostenibile, biciclette, scooter elettrici, monopattini e di dare a questi strumenti in tempi rapidissimi la possibilità di circolare in sicurezza per la città. E su questo la cosiddetta rete d'emergenza può avere un senso ma quello che veramente può avere un senso è accelerare tutti quelli che sono i progetti a riguardo perché nulla deve essere fatto solo ed esclusivamente con logiche emergenziali ma la sostenibilità e la mobilità sostenibile devono essere attuate con logiche invece determinate ma di lungo e medio periodo. E per quanto riguarda invece tutto quello che ruota attorno alla sostenibilità in genere direi che bisogna sfruttare questo vantaggio, uno dei pochissimi che ci offre il Covid-19 appunto di accelerazione verso la sostenibilità. Quindi l'iniziativa di Milano è senz'altro corretta speriamo che si riesca se non ad imporre a trovare il modo il modo intelligente per limitare l'uso della macchina e su questo sicuramente anche l'idea della prossimità l'idea della città dei 15 minuti a piedi e quindi il trovare in 15 minuti tutto quello che ti occorre è assolutamente da sposare. Questo anche perché si riesce a rilanciare l'economia di prossimità si riesce a valorizzare tutto quello che era la vita di quartiere e quindi a rilanciare l'idea della bottega ma anche all'avere a portata di mano tutto la scuola, il lavoro ma anche un po' i posti ludici, i posti di aggregazione e questo sicuramente cambierà la vita nostra migliorerà la nostra qualità della vita ma a mio parere la cosa più importante è che rigenererà e renderà molto più vivibili le nostre città quindi complimenti a Milano che tutte le amministrazioni seguano questo tipo di logiche che non lo facciano esclusivamente con un approccio emergenziale ma lo facciano perché è la sostenibilità del futuro che è da anticipare a quella del presente.